Dopo i soldi buttati a dicembre per radere al suolo la flora ripariale dei fiumi presenti sul territorio di Monte Corice, lasciando in loco quanto era stato eradicato, compresi rifiuti senza alcun risultato utile, al contrario con esiti dannosi per la sicurezza, per l'ecosistema fluviale e per le casse pubbliche con risorse che potevano essere usate in modi ben più intelligenti, ora l'amministrazione comunale, che come affermato in un consiglio sostiene che non possono essere i uccellini e le tartarughe del parco, affermare lo sviluppo, si è destinata per un'altra impresa che all'evidenza dei fatti sembra ancora una volta ispirata dal disprezzo delle più elementari regole di buon governo e che ancora una volta non solo non risolve il problema ma crea danni evidenti e gravissimi. A denunciarlo l'Associazione Ambiente Trasversale sembra infatti, continuano dall'Associazione, che le operazioni di dragaggio assolutamente necessarie per il porto di San Nicola siano state del tutto inadeguate per la mole di materiale che ancora presente nel bacino portuale tuttora impedisce la navigazione e l'attracco della porzione interessata dalle operazioni di escavo, ma la cosa più eclatante è che questa roba tirata fuori dal porto non è solo poseidonia e non è assolutamente poseidonia spiaggiata ma è anche e forse soprattutto fanghi e sabbie contaminati da oli e carburanti e quant'altro i rifiuti. L'Associazione Ambiente Trasversale mette in evidenza con il presente esposto denunciando le autorità in intestazione quanto avvenuto in data 30 giugno 2021 alle ore 17 circa in località Capitello nel comune di Monte Corice, precisamente in prossimità della spiaggia chiamata dei Porcelli. La grande quantità di posidonia è stata sversata in parte sulla battigia ed in parte in acqua, questo allo scopo di agevolarne la dispersione in mare causando un rilevante impatto ambientale sulla fauna e sulla flora presente in loco. Si precisa come è noto che la posidonia, la sabbia e i rifanghi presenti nei porti sono equiparabili ai rifiuti speciali attesa l'elevata concentrazione di oli e derivati dal petrolio presente nelle acque e in generale nei sedimenti dei porti. Si precisa altresì che la zona interessata dallo sversamento rientra all'interno del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Dalburni. Ebbene, questi materiali, continuano dall'associazione, sono stati portati su di una spiaggetta a circa un chilometro dal porto e depositati sulla battigia. Il grosso quindi si è disperso in mare e una parte è stata interessata da mezzi meccanici, come evidenziano le foto. La spiaggetta raggiungibile solo in barca e a piedi è quella a confine col comune di San Mauro Cilento e che ora è stata ripulita dai volontari di ambiente trasversale, da quintali di rifiuti spiaggiati. La spiaggetta si chiama dei porcelli che appunto non possono capire queste perle di buon governo del territorio del nostro sindaco. Dunque l'associazione ambiente trasversale ha fatto un lavoro di bonifica e pulizia grandissimo su tutta la costa e ha esposto alle autorità competenti i fatti sopracitati ed attende risposte.